E' entrata nel vivo la campagna elettorale a Carovigno che vede ai nastri di partenza come noto quattro candidati sindaco. Vincenzo Radisi, Massimo Lanzillotti, Francesco Lottesoriere e Salvatore Ancora. Quest'ultimo è espressione della PD con il Movimento 5 Stelle e alla base del suo programma elettorale c'è l'ambiente ma non solo. A Carovigno c'è tanto da fare. Nel nostro programma abbiamo inserito varie, diciamo, come tutti i programmi, sono il libro dei sogni, quindi noi tante cose vorremmo fare. La differenza rispetto magari ad altre proposte è che noi effettivamente abbiamo costituito un gruppo coeso, unito, solido e che riteniamo di poter essere l'unico gruppo in grado di dare un governo stabile alla città per almeno cinque anni e forse anche oltre. Restando sui programmi, il sindaco uscente Massimo Lanzillotti, appoggiato da tre liste civiche, esattamente come nell'ultima campagna elettorale, afferma. Il nostro programma elettorale è la base principale di quello che proponiamo alla città perché è l'unico programma partecipato del 2018 che abbiamo scritto insieme alla cittadinanza e che nel 2023 abbiamo cancellato le cose già fatte, aggiornato e riproposto alla città. Il mio non è un sogno ma è una certezza e soprattutto è quella di ripartire da tutti i progetti che abbiamo candidato e che sono stati finanziati e questa è la base principale del nostro operato, tutto quello che andremo a fare cioè cantierizzare e realizzare tutte le opere pubbliche che sono state già finanziate.